fucile a pompa firepower fucile a pompa a calcio fisso velocità 98 metri al secondo 0,6 di joule gittata sui 50 metri capienza 30 30 pallini peso intorno al 1700 grammi 1,7 kg dotato di blocco pop up andiamo a vedere l'arma dal vivo fucile molto bel rifinito si presenta con una linea aggressiva tutto nero antiriflesso opaco è interamente in tecnopolimero molto resistente la carne interna ovviamente in metallo i dettagli sono molto ben costruiti la regolazione della tracolla va messa qui e qua la tracolla la trovate all'interno compresa in dotazione così come troverete un sacchettino con mille colpi all'incirca la stecca di pulizia due cartucce e una siringa per caricare le cartucce andiamo a vedere l'arma nei suoi dettagli principali la sicura è posta nel retro del grilletto semplicissima da utilizzare alla sua sommità alla sua nella parte anteriore davanti il grilletto troviamo l'accesso il vano accesso alle cartucce che sarebbe muovendo questa levettina arretrandola leggermente apre questa levetta dove noi andiamo ad inserire le cartucce dopo averle caricate con questa siringa in questa maniera si inseriscono i pallini delicatamente poi la cartuccia viene inserita si chiude a questo punto si arretra decisamente la parte anteriore e il pronto per sparare non è non non essere titubante quando arretri questa parte perché fare questo lavoro due volte così può fare incastrare l'arma a due di o tre di mira un anteriore una posteriore dei loghi disegnati impressi sia sul parte superiore che inferiore i dettagli sono molto molto ben pulati